2 milioni e 635 mila euro, tanto la progeste di Bruno Zago è disposta a spendere per acquisto dell'ex convento di Asolo. Questa mattina l'apertura delle buste con le offerte d'asta indetta dal consiglio provinciale. L'offerta migliore è quella della società di Strana. Il convento avrà un nuovo proprietario che seguirà fedelmente disciplinare valorizzando il vincolo culturale e soprattutto garantendo la manutenzione che la provincia, visti i tagli di governo, non poteva più permettersi. E' il commento di Leonardo Muraro.